E dunque, seguendo l'indirizzo dell'Ales Bello, abbiamo parlato per Edith Stein di una trilogia fenomenologica di cui l'empatia, cioè la sua tesi di laurea, è la prima opera. Le altre due appunto sono Psicologia e Scienze dello Spirito, contributi per una fondazione filosofica, e una ricerca sullo Stato. Nella conversazione di oggi ci interesseremo di queste due opere. La Psicologia e Scienze dello Spirito è divisa in due sezioni. La prima sezione è intitolata Causalità psichica, ed è quella che non tratteremo oggi. La seconda invece tratta dell'individuo e della comunità. Abbiamo già detto che la, potremmo dire, versione della fenomenologia di Edith Stein può essere intesa come una fenomenologia dell'empatia. Questo taglio che Edith Stein dà alla sua fenomenologia all'interno del gruppo del realismo fenomenologico, del realismo trascendentale che si oppone all'idealismo di Husserl impedisce Edith Stein anche, evita o meglio Edith Stein anche, di cadere nel rischio del solipsismo o nella fatica titanica che ha dovuto fare Husserl intorno alla questione dell'intersoggettività. In questo testo c'è una bellissima affermazione proprio riguardo alla natura organica della comunità. L'Einstein dice testualmente diversamente dalla società, come vedremo poi, la caratteristica della comunità consiste nel fatto che essa non è prodotta o annullata da un atto arbitrario, piuttosto cresce e si estingue proprio come un essere vivente. Io vorrei proprio cominciare dalla comunità che ha a che fare dunque con quella che possiamo definire la vita dello spirito perché la comunità è una strutturazione intersoggettiva. Ecco, l'intersoggettività è un tema molto importante all'interno della fenomenologia e della scuola fenomenologica per cui si può tranquillamente declinare dal punto di vista antropologico l'essere dell'essere dell'uomo come un coesse e dire est est coesse cioè l'essere è uno stare assieme. Ebbene, la comunità si presenta come la forma più perfetta e compiuta di vita intersoggettiva a differenza della massa e della società. Poi la comunità si espande, vedremo, in una forma più ampia che è quella dello Stato nella quale parleremo brevemente a termine di questa conversazione. Quindi il filo conduttore di questa indagine è costituito dalla convinzione della Stein secondo cui l'essere umano è appunto questa apertura verso l'altro di cui l'empatia è il tratto diciamo la dinamica che si manifesta nell'empatia ma che in realtà è la struttura personale dell'essere umano. E da questo punto di vista potremmo dire che la fenomenologia dell'empatia di Edith Stein è una forma di personalismo cioè di filosofia della persona di una filosofia della persona umana radicata sul concetto teologico e cristologico della divino umana persona di Cristo ma dell'essere personale di Dio che è ereditato dalla concezione biblica e quindi dal cristianesimo. quindi c'è una profonda convinzione per la quale la vita comunitaria non annulla e questo lo abbiamo già visto nella tesi sull'empatia nella sua critica a Theodor Lips non annulla l'irriducibilità della persona umana quantomeno nella vita comunitaria cioè all'interno della vita della comunità proprio perché la vita comunitaria è il massimo modo il modo più perfetto d'essere dell'essere assieme agli altri questa vita associata radicatasi pienamente nella comunità non elimina l'irriducibilità della persona umana non c'è una liquefazione uno sparire un annullarsi dell'essere umano nella sua dimensione personale quindi la comunità si presenta per l'Einstein come una organica connessione e può essere ricondotta e dunque compresa alla costituzione del singolo cioè a quali sono quegli atti per mezzo dei quali io mi costituisco in senso fenomenologico cioè mi comprendo e mi realizzo come persona possono essere ricalcati o meglio declinati per quanto riguarda la comunità come infatti nell'individuo la forza psichica dice la Stein è strettamente connessa a quella spirituale altrettanto si deve constatare per le comunità e in maniera particolare per quelle comunità che sono i popoli perché per la Stein i popoli sono delle particolari forme di comunità e la vita dei popoli in maniera normale si manifesta attraverso la vita dello spirito cioè dal luogo a delle formazioni culturali che identificano quella comunità quel popolo che variano che variano per qualità per intensità e che addirittura però possiamo trovare a volte popoli che vivono periodi di improduttività da questo punto di vista spirituale quindi se vogliamo comprendere ciò che accade dal punto di vista comunitario è necessario tenere presenti le manifestazioni spirituali dei soggetti all'interno della comunità perché la comunità si arricchisce dei vissuti intenzionali di quelle persone che fanno parte della comunità anche se poi quei vissuti sì in un certo senso si oggettivano e costituiscono l'essere della comunità stessa ai quali poi vissuti oggettivati può attingere anche il singolo per arricchire se stesso e cioè questi atti sono i contributi che ha la comunità da l'individuo cioè una comunità vive ed è tanto più viva quanto maggiore è come potremmo dire il contributo del singolo alla vita della comunità stessa è una realtà vivente e palpitante la comunità che trascende ovviamente l'individuo ma che si nutre c'è una dimensione proprio di rapporto organico tra la comunità e l'individuo stesso e quindi ci sono ovviamente comunità che vivono di atti intenzionali che possiamo definire moralmente positivi e di atti intenzionali che possiamo definire immorali dal punto di vista diciamo morale questi atti sono compiuti da persone e riguardano la presa di posizione della persona nei confronti di un'altra cioè una comunità in cui ci sono delle prese di posizione positive tra i membri della comunità stessa quindi amore fiducia riconoscenza è diversa da una realtà in cui ci siano degli atti ovviamente opposti come quelli della sfiducia dell'odio e dell'antipatia quindi la positività o la negatività degli atti la si constata negli effetti perché? perché l'amore è una forza produttiva l'odio è una forza distruttiva una comunità può essere tenuta insieme unita da un comune odio per un determinato obiettivo ma questa è una forza distruttiva di questa comunità pertanto cioè che viene riversata verso l'esterno mentre il primo diventa cioè il primo atto quello dell'amore diventa un valore e non in senso astratto ma in senso concreto perché fonda e vivifica il rapporto interpersonale concreto su quella apertura verso l'altro quella disponibilità verso l'altro si basa secondo la Stein la cosiddetta solidarietà nella solidarietà si manifesta la forza vitale comunitaria e quindi si delinea la personalità sopraindividuale della comunità ci sono delle particolari comunità come per esempio la comunità del popolo napoletano caratterizzata almeno nella sua storia recente dallo spirito di solidarietà e di partecipazione immediata alle vicende di chi ti si approssima e qui ovviamente c'è una presa di distanza anche dalla posizione e poi vedremo soprattutto per lo stato di Hegel ma anche per la comunità perché non c'è qui l'annullamento del finito nell'infinito come abbiamo detto e quando la Stein parla di personalità attribuita alla comunità ripeto non c'è questo assorbimento e questo annichilimento ma la personalità della comunità entra in una relazione potremmo dire empatica e dunque intersoggettiva con la irriducibile personalità di chi compone e fa parte di quella comunità tra l'altro si può partecipare a più comunità a diverse comunità e quindi vivere di questo personalità sopra individuale relazionandosi ad essa delle diverse comunità la comunità è considerata dunque come un'unità di tipo personale però non si rapporta ai singoli membri come se fosse una persona per esempio dice la Stein l'amore per la patria del singolo non può influire direttamente sulla comunità ma solo indirettamente come stimolo nei confronti degli altri membri e poi c'è un reciproco rapporto fra le comunità che ovviamente può essere di amore e di odio le comunità possono amarsi possono odiarsi possono confliggere o possono essere neutrali l'una verso l'altra però esiste una dimensione anche oggettiva legata alle condizioni spazio temporali in cui vivono le comunità cioè lo spazio geografico all'interno del quale vivono le comunità contribuisce allo spirito della comunità stessa perché le condizioni esterne influiscono sulla mentalità di un popolo sui suoi sentimenti quindi la natura e la cultura costituiscono i due momenti essenziali fondamentali per comprendere le caratteristiche di una comunità la cultura ma anche l'ambiente cioè l'ambiente proprio fisico geografico in cui vive la comunità tutt'altro discorso si può fare e si deve fare per la massa perché la massa è formata dice la Stein da un insieme di individui che si comportano tutti allo stesso modo caratterizzata non da uno spirito da una riflessione ma da un panpsichismo e questa unità che c'è tra i componenti della massa non determina la realizzazione di una vita comune e abbiamo già visto quando abbiamo studiato la società di massa come si compone la massa e come si frantuma facilmente la massa ciò che caratterizza il modo di agire collettivo della massa è l'eccitabilità della psiche dice la Stein della psiche individuale quando viene contaminata da altri della massa stessa cioè c'è una trasmissione immediata all'interno della massa perciò la massa ha dice la Stein solo una vita psichica ma non ha una dimensione spirituale come la comunità e qui è importantissimo come se dicessimo all'interno della massa la persona umana si spersonalizza perde la sua dimensione spirituale si ottenebra la sua dimensione spirituale cioè c'è una suggestione collettiva un contagio collettivo e sappiamo benissimo che per la Stein è giustamente il capo della massa è al di fuori della massa stessa cioè la guida della massa è esterna alla massa e non interna alla massa stessa e in più la massa si identifica con il capo cosa che invece abbiamo visto non avvenire all'interno della comunità tra la persona individuale e la persona potremmo dire sopra individuale che determina la comunità e infine in questo saggio viene studiata in questa seconda parte del saggio viene studiata anche la società la società è diversa dalla comunità e della massa è la realizzazione di un'unione personale e spirituale però in maniera diversa rispetto alla comunità in quanto gli individui che compongono sono legati da uno scopo pensate alla scuola per esempio ai docenti che lavorano nella scuola è un particolare tipo di società certo all'interno di questa società possono esistere dei rapporti personali di tipo comunitario ma la scuola in quanto società non è una comunità è caratterizzata dalla razionalizzazione dei rapporti e dalla funzione che l'individuo svolge all'interno della società stessa e i suoi membri dunque svolgono all'interno della società una particolare funzione questi rapporti hanno solo un carattere oggettivo i rapporti interpersonali che si instaurano all'interno della società ognuno è oggetto nei confronti dell'altro in genere ci si chiama per cognome per funzione meglio ancora che si svolge all'interno della società quindi manca nella società quel legame intimo personale che è proprio della comunità la società poiché è una struttura trascende l'arco di tempo dei membri all'interno della comunità della società stessa cioè essa permane all'uscita di scena e al ricambio dei componenti della società stessa cioè alla società se vogliamo fare un confronto con la comunità dice la Stein manca una storia e una tradizione quindi una vera e propria anima una identità la Stein sostiene dunque che al fondo di questa società c'è una dimensione strutturale rispetto a quella viva magmatica palpitante che troviamo nella comunità certo la società non è una degenerazione della comunità ma non è l'inveramento della comunità stessa perché è la comunità che ha una natura organica e quindi la sua genesi si attua quando si stabilisce quel rapporto personale tra i membri di quella determinata comunità nell'ultima opera di questa trilogia la Stein si interessa alla formazione di comunità più vaste che sono appunto le comunità di popolo ma che si danno una strutturazione oggettiva come stato tra l'altro la Stein ricorda che c'è stata un'epoca della storia europea in cui le comunità sono vissute senza stato cioè lo stato è indubbiamente una creazione moderna parliamo del medioevo medioevo non c'era lo stato così come lo conosciamo questa è un'interessante ricerca lei dice come la famiglia o le comunità caratterizzate dai legami di amicizia e risalendo a quelle più complesse la tribù il popolo e i diversi tipi di associazione come le comunità religiose e così via si giunge alla comunità di tutti gli esseri umani sotto forma di comunità spirituale la forma statuale è una certa forma che le comunità si danno e si intende per una comunità statuale quella comunità che non è determinata da nessuna forza esterna e che ha una strutturazione giuridica che determina le relazioni tra i componenti di quel particolare tipo di comunità la sua costituzione giuridica che distingue lo Stato dalla comunità e pone lo Stato come una realtà impersonale che però non può esistere senza le persone e non può mantenersi in vita senza le persone che